Ogni due anni il Premio Moretti torna a Cesenatico a raccontarci l'importanza che hanno per il nostro sapere materie come la filologia e la critica letteraria. In attesa di conoscere i vincitori di questa edizione, c'è da riflettere sul ruolo dei giovani nel campo umanistico. I giovani oggi sono, quando sono bravi, sono davvero bravi. E anche di premiare tanti giovani, notavamo proprio oggi, tra quelli segnalati, degni di essere premiati, ma non li si possono premiare tutti, che purtroppo sono costretti a lavorare all'estero. Tantissimi di questi giovani, bravissimi, lavorano fuori d'Italia e questo ci dispiace anche. Certo sarebbe bello che potessero tornare. Si tratta di salvaguardare la resistenza della critica per il futuro, formare delle giovani generazioni nell'ambito specifico degli studi letterari, ma poi nell'ambito di ogni esperienza quotidiana giovani generazioni che sappiano guardare criticamente al mondo, criticamente alla letteratura, per chi si occupa di letteratura, ma attraverso la letteratura, a partire dalla letteratura, interrogare la complessità del mondo, la sua contraddittorietà.